un saluto agli amici della casa chiave milano oggi abbiamo fatto le chiavi questa bellissima tnre x in data 600 600 allora siamo riusciti il nostro amico ha fatto fatica ad avere le chiavi in altri posti noi ecco qua accensione il giro perfetto funge ottimo alla grande chiave amaca venire casa della chiave number one un saluto Grazie a tutti. Grazie a tutti.